Musica Allora ci presentiamo, buonasera a tutti da Mike Rino e Coni che sta facendo le reprise per Facebook Siamo qui a Barciacchipay tutte le domeniche a fare parocche in animazione Quindi dopo questa bellissima occasione, quando volete venire a trovarci e volete passare una bella domenica brinzante Insieme a tanti ospiti, tanti personaggi e fare il parocche Veniteci a trovare, siamo qui tutte le domeniche sera a Barciacchipay, sempre